Oggi abbiamo assistito a una vera e propria partita di calcio insomma Sì, è una battaglia, una vera battaglia qua a Stabio contro Vallemaggia, lo si sapeva già Però alla fine adesso è uscito a fare una grandissima vittoria Alla fine insomma chi la dura la vince, no? Certo, il rigore per parte, noi abbiamo segnato loro al novantesimo penso Hanno affredito il rigore e questi episodi che si decidono anche le partite Quanto è importante per te in partita di genere riuscire comunque a segnare? A segnare è importante, l'attaccante vive dei gol L'attaccante vive dei gol però è anche importante lavorare per la squadra Se la squadra vince non fa i gol sei contento lo stesso